Buongiorno al popolo rossoniero, buongiorno al popolo del bandito e buon mercoledì 7 di agosto. Come comincia questo mercoledì 7 di agosto? Comincia con un'altra prestazione direi convincente del nostro Milan. Era una tournée nata sotto, diciamo, cattivi presagini, diciamo, Milan con troppe assenze, poco mercato, anzi, quasi nulla, nullo anzi, perché nessun giocatore nuovo abbiamo proposto in questa tournée americana. Doveva essere, insomma, una magra figura perché alle squadre troppo importanti, troppo grosse rispetto a noi e ovviamente i profeti di sventura insomma avevano pronosticato figuracce, figuracce. Allora tutto questo non c'è stato, ovviamente noi prendiamo, noi ottimisti diciamo, prendiamo e mettiamo da parte perché non ci esaltiamo, non, meno io non credo che il calcio d'agosto sia rappresentativo, però può dare dei segnali, può dare qualche segnale lo dà. Allora quali segnali noi dobbiamo portarci a casa? Da questa tournée che ci ha visto battere il City, battere Real Madrid, pareggiare 2-2 col Barcellona, che era la squadra, diciamo, sicuramente più in forma rispetto alle altre perché ha battuto sia uno che l'altro, sia City che Real Madrid, e vincere poi ai calci di rigori con un portiere, un ragazzino che ci lascia anche qui di stucco perché ha sfoderato tre prestazioni, una meglio dell'altra ieri sera addirittura direi perfetta. Chi ha segnato? hanno segnato Jovic e Pulisic, un Pulisic già scintillante, Pulisic è veramente un grandissimo giocatore, noi non so perché c'è questa tendenza a non esaltare quello di talmente bello che abbiamo, di però Pulisic ragazzi, dobbiamo esaltarlo perché è di una continuità, è di una classe che è veramente immensa. Prima parliamo delle cose positive, poi vediamo se insomma c'è anche qualcosa di negativo, più che altro qualcosa che ci può dare dei segnali perché adesso veramente dobbiamo portare a compimento la campagna acquisti perché sarebbe un peccato enorme, enorme, enorme non completare questa squadra che merita di finire il mercato con le cose da fare tutte fatte, lo meritano, lo meritano questi ragazzi, lo merita questo allenatore che ci sta sorprendendo, e quindi va completato il tutto, adesso ne parliamo, ma tra gli aspetti positivi tanti, io direi anche Musa, a me Musa è piaciuto tantissimo, e Salamecker, davanti diciamo siamo veramente, Leavo ha già cominciato a far vedere le sue prime giocate scintillanti, insomma, bene, se devo cogliere qualcosa di, al di là di quelli che sono gli errori che in una partita contro il Barcellona in fase di ci possono stare benissimo, quindi non voglio soffermarmi sull'errore del singolo, l'errore in uscita, quelle sono cose che francamente ci stanno come ci sta, non diciamo esaltarsi per i risultati di queste tre partite, però bisogna cogliere quello che esce fuori, e direi che se devo cogliere qualcosa della partita di questa notte, continuo a pensare che ci manca un giocatore lì davanti alla difesa che domini quella posizione di campo. Pulisic, cioè scusate, Loftus così così, così così, Loftus è il dubbio più grosso che mi sto portando dietro in questa fase di costruzione della squadra, perché io credo che Fonseca stia andando verso una tre quarti più tecnica, quindi con Pulisic, o con Liberali, o con Samasic, comunque con due giocatori che si alternano, ma con determinate caratteristiche. E quindi qui gli spazi per Loftus si vanno a restringere. Lui saprà riciclarsi nei quattro dietro, per quattro lo dico perché ovviamente con le due coppie, quindi supponiamo Ben Asser, Musa, Reinders il nuovo mediano, poi c'è Loftus, non considerando Adelie che, come dico spesso, secondo me è fuori dal progetto e fuori dalla lista Serie A. E' un bel dilemma, perché bisognerà capire cosa vorrà anche Loftus, cosa penserà di questa cosa, però noi credo per completare il mercato e per dare la possibilità a Fonseca, come ha detto a fine partita, secondo me con molta sincerità, senza paura, di andare a lottare per lo scudetto. E dobbiamo dargli quel giocatore lì e poi, diciamo, assestare tutto l'insieme nelle ultime giorni di mercato, vediamo se sarà il caso di arrivare a un trequartista più tecnico, quindi a Sarazic e a un altro attaccante, ma quelle sono cose più da ultimi giorni di mercato, da occasioni, diciamo. Quello che secondo me fa chiudere il cerchio di questa squadra è quel benedetto mediano di davanti che creerebbe un'ossatura di squadra assolutamente di rilievo. Ecco, noi tendiamo a, non so il motivo, ma tendiamo a pensare che sempre che l'erba del vicino sia ancora più verde, no? E in realtà, lasciamo stare, non vi piace sapere che abbiamo i conti a posto, quindi quelle le mettiamo da parte, ma noi abbiamo una squadra giovane, giovane, collaudata, collaudata, perché è comunque una squadra che gioca insieme da tempo e che sta crescendo insieme, ha una base, quindi è una squadra collaudata. Abbiamo dei giovani di assoluto valore, cioè noi l'Under 23 ci consentirà di valorizzare giocatori che anche in questa turnè si sono rivelati, abbiamo scoperto Torriani, strepitoso, ma dove era sto portiere? Strepitoso. Abbiamo scoperto, anche se già un po' lo conoscevamo, Liberali, avremo da scoprire tra poco Camarda, Zeroli, ma tanti altri, che si andranno a inserire in un contesto di squadra già ben delineato, in un'ossatura ben delineata. Insomma, ragazzi, per carità, poi ognuno può pensare quello che vuole, può pensare che i motivi per guardare avanti con molto, molto, molto ottimismo ci sono tutti, ci sono tutti. Adesso dovremo riuscire a concretizzare, a rendere ancora più solida questa squadra e come può farlo la società? Chiudendo al meglio questa campagna acquisti. Quindi, con quel giocatore lì, davanti alla difesa, che orchestra, organizza e chiude tutto, che dà i tempi anche della partita, insomma, un giocatore che non abbiamo in questo momento e quindi sarà importantissimo vedere chi, dove e quando. Perché? Se Emerson Royale arriva oggi, come sembra mai scontato, cioè arriva oggi, si chiude oggi, poi arriverà domani, dopo domani, quello che sarà. Per Fofanà le cose si complicano, no? Perché pare che il solito Manchester United ci stia provando. Qui si misurerà la determinazione di Fofanà. È ovvio che se Fofanà dovesse dire no anche al Manchester United, la strada sarebbe spianata verso il Milan. Se invece Fofanà dovesse aprire al Manchester United, come ha fatto Zezze, e allora lì il Milan dovrà essere rapido, tempestivo. Io credo già dovrebbe avere la carta di riserva e dovremmo andare subito a chiudere la carta di riserva per non rischiare di fare la fine dell'anno scorso con Taremi, di arrivare lunghi alla fine e poi di dover andare a prendere le briciole in giro negli ultimi giorni. No, noi dobbiamo, lo dobbiamo, la società lo deve anche a un allenatore che si sta comportando seriamente e bene, a una squadra che ha tutti i mezzi per poter quest'anno lottare per vincere il campionato e quindi no, bisogna assolutamente non accontentarsi, non pensare che ci possiamo adattare qualcuno, no, lì dobbiamo fare, dobbiamo veramente prendere il giocatore che sarà determinante per la nostra stagione. Quindi io mi auguro che a casa Milan si lavori bene, si faccia il possibile e l'impossibile per concludere al meglio un'estate che ci sta rivelando una squadra per certi versi più solida di quello che ci aspettavamo, dei giovani sorprendenti e insomma le cose buone ci sono, ora bisogna che la società faccia il suo e ci porti a casa quel giocatore che può veramente consentire al Milan di andare quest'anno a vincere lo scudetto. Un like al video se siete d'accordo e naturalmente più che mai forza Milan sempre e comunque.